Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Silvia Vallone dal titolo Cuore Nero edizione Rizzoli. Il cuore nero è quello di Emilia, una giovane di appena 31 anni che decide di trasferirsi in un posto sperduto tra le montagne, in una casa di proprietà della propria famiglia utilizzata negli anni precedenti per trascorrere le vacanze estive e dove viveva una zia, la zia Iole. La vita in questo posto è una vita sicuramente molto differente rispetto al luogo dal quale lei proviene, ossia il penitenziario minorile, ma nello stesso tempo è molto differente anche dal luogo dove la sua infanzia è trascorsa, ma comunque Emilia è decisa a iniziare una nuova vita in questo posto. Incontra l'unica anima, potremmo dire, una delle poche anime presenti in questo posto che è quella, abbiamo redatto, che ci fa compagnia in questa presentazione e quindi dicevamo che Emilia incontra un giovane maestro Bruno. Bruno insegna nella piccolissima scuola di montagna ed è un giovane che anche lui ha deciso un po' di chiudersi al mondo per delle motivazioni che man mano leggendo la storia verranno a galla e sono così due solitudini che si incontrano e il primo macro capitolo di questo libro è proprio intitolato così, due solitudini, le due solitudini di questi giovani che si ritrovano, non sanno nulla l'uno dell'altro ma la passione li travolge e iniziano ad avere una relazione fino a quando la notizia di quello che è accaduto ad Emilia precedentemente non viene fatta per venire dalla lingua malevola di una collega che è gelosa di questa relazione nata tra Bruno ed Emilia decide di rivelare a quest'ultimo quello che si nasconde dietro questa giovane donna. Questa situazione, quindi il peso di questa rivelazione non riesce a essere sopportato da Bruno e per questo motivo i due si lasciano. Emilia va a trovare, o meglio viene accolta a Milano da quella che è stata la sua amica nella lunga permanenza vissuta all'interno del penitenziario, Marta. Anche Marta come lei è riuscita a laurearsi, a studiare, anche in un ambiente così ostico come quello del penitenziario. Il secondo macrocapitolo, infatti, nel quale la storia è racchiusa è appunto intitolato 5264 giorni. Sono appunto i giorni che la nostra protagonista ha trascorso all'interno del penitenziario. C'è poi l'ultimo macrocapitolo che è intitolato Il mare. Ma non vorrei aggiungere troppi particolari riguardo a quest'ultimo capitolo per non svelare quello che sarà l'esito di questa bella e interessante storia. Vorrei invece porre l'attenzione su un aspetto. In questo libro la storia prende sin dalle prime pagine, è scritto molto, ma davvero molto bene. L'autrice nel 2010 ha scritto il suo libro più noto, Acciaio, da cui è stato tratto anche un film. In questo libro affronta un tema, tanti temi, davvero importanti. Il lettore è messo di fronte quindi a degli interrogativi, a dei spunti di riflessione che non sono di poco conto. In primis i penitenziari minorili e quindi la possibilità che rappresentino realmente per chi vive questa esperienza il momento di una sorta di redenzione, se così possiamo dire, anche la possibilità di poi riuscire a inserirsi, di trovare una collocazione, per così dire, in quella che è la società. Ma soprattutto evidenzia un aspetto molto importante, che è quello dell'accettazione della collettività rispetto a chi ha commesso gravissimi reati e per questo è stato ricoverato in queste strutture, di accoglierle nuovamente. Il libro ripercorre questa sofferenza, questa sofferenza che è legata al rifiuto della società e allo stesso tempo alla difficoltà della stessa protagonista di accettare e di superare quel trauma seppure essa stessa ne è stata la promotrice, il soggetto principale. Ho poi sottolineato, appuntato, alcune frasi che mi hanno particolarmente colpito, interrogativi. Uno di questi, si può pagare un reato con la propria giovinezza? Una famiglia è una fune, nessuno ha il diritto di cacciarti. Allora, cos'era il male? Il non saper perdonare. E questi e tanti altri sono gli interrogativi, le affermazioni all'interno di questo libro. Per tutte queste motivazioni propongo vivamente la lettura di questo bel libro scritto da Silvia Avallone dal titolo Core Nero, edizioni Rizzoli. Alla prossima, con il gatto.